Il giorno di Natale Il giorno di Natale Era prefisso da casa C'è un po' di fila però aspettate volentieri Che cosa è andata a vedere? Tutto quello che c'è Anche lei è convinta di venire? Sì Come vedete con lo scorre della giornata La coda non diminuisce Anzi c'è chi arriva non da molto lontano Ma comunque ha scelto di passare Il proprio Santo Stefano Al museo degli uffizi Abbastanza Dove arrivate? Monzo Umano Però da vicino Abbastanza sì Come mai proprio il giorno di Santo Stefano? Perché la disponibilità era oggi Poi il giorno di lavoro è più difficile Siete qua da un'ora più o meno? Anche un'ora e venti Cosa è andata a vedere? La venda dei Botticelli? Altro? Gli uffizi e la mostra di Leonardo Il codice Gli uffizi al museo? Esatto sì Siete turisti? Obbligato da Per me e compagna Questo lo vedo Ma è colpa anche del freddo Non c'entra niente? No 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 Cioè nel senso perché siamo qua? No no agli uffizi proprio Ah no A scelta mia Che cosa è andata a vedere più che altro? Giro generale Vediamo Buon Natale Grazie a voi Ho detto che c'era fila di un'ora Aspettate lo stesso? Io sì aspetto lo stesso Vuole investire il suo Santo Stefano qua? Sì Oggi sì E' anche un modo per smaltire il panettone Magari camminando Oppure è il richiamo della cultura? Tutte e due le cose diciamo